Let's go bitches, il team sublime è tornato da Londra vincitore e questo è un recap in cui vi racconterò un pochino come è andata, cosa è successo, cosa abbiamo vinto, cosa abbiamo perso, il perchè eccetera eccetera Allora per prima cosa parliamo di com'è andato il viaggio, io sono arrivato la sera, il volo è stato un volo di merda pieno di turbolenze e ci ho messo più di un'ora e mezza per arrivare in albergo Che si trova al Twickenham Stadium, il Twickenham Stadium è uno stadio di rugby e non so la squadra qual era, il simbolo era una rosa rossa, se lo sapete scrivetelo sotto nei commenti Comunque sono arrivato lì, ho incontrato quindi tutti i miei compagni di team, abbiamo anche tra l'altro io dovevo cenare, sono andato a cenare al classico Burger King per spaccarsi E comunque gli anime erano abbastanza abbattuti perchè non ci siamo potuti allenare noi quattro ma anzi ci siamo allenati molto sparsi tipo due insieme, tre insieme eccetera così per vari motivi Frito aveva l'alimentatore rotto, io giocavo su One, Pibo è entrato con noi una settimana prima delle qualificazioni di Londra e così via Quindi per vari motivi, secondo me eravamo abbattuti perchè avremmo potuto giocare su One, chi non avevamo confidenza sia con il gioco che è un po' diverso sia con il controller E abbiamo scoperto poi che lì ci avrebbero prestato degli scuff però c'erano ovviamente anche dei problemi perchè per esempio Leonardo usa il control freak e non avevamo un control freak per lui Io stesso ho usato uno scuff senza utilizzare i pad dal sotto ma mi dava molto fastidio, tra l'altro gli analogici mi scivolavano quelli perchè erano degli analogici diversi da quelli della One E quindi mi scivolavano le dita e non mi trovavo proprio benissimo Comunque il secondo giorno sveglia alle 8, doccia, usciamo tutti, facciamo una colazione dentro l'hotel e andiamo a quello che è l'avenue, l'evento Che si trova proprio dentro lo stadio, un evento bellissimo, una sorta di palco con tutte le persone che possono assistere E noi dentro a dei booth insonorizzati, dei booth insonorizzati sono praticamente delle grandi scatole dove all'interno non si sente niente E' fatto apposta in modo che i commentatori possono commentare e coinvolgere quelle che sono le persone che guardano l'evento Prima di entrare comunque abbiamo fatto un piccolo warm up e le cose sembravano andare abbastanza bene Anche se avevamo vari problemi perchè se avete visto comunque lo streaming avete visto che molti di noi qualche volta hanno smirato e non hanno mirato bene Non sono stati precisi come devono essere, questo perchè non ci trovavamo molto bene con il joystick E poi era una delle nostre partite, specialmente gli altri che non giocavano su One Comunque devo dire che anche non avendo mai giocato così, non avendo mai giocato assieme abbiamo dimostrato veramente che la nostra esperienza è veramente di un livello pauroso Perchè riusciamo tranquillamente a battere chi gioca da One da tantissimo tempo e gioca assieme comunque da abbastanza tempo E oltre a questo devo dire che la LAN, allora le prime partite abbiamo giocato contro gli AK, ovviamente la qualificazione per andare a Los Angeles Quindi la qualificazione italiana, la prima mappa sovra in domo Il primo dominio parte come se gli AK stavano quasi in vantaggio, sembrava così ma noi stavamo solamente prendendo parte della mappa Una volta preso il V abbiamo cominciato a collezionare punti su punti Stessa cosa per il secondo side, io devo dire che il primo side ho detto vabbè io mi concentro a prendere le bandiere Ma ho visto che era inutile perchè le bandiere ormai le prendevamo sempre o almeno riuscivamo a togliere così via Quindi il secondo side mi sono per esempio lasciato andare Passiamo a Chad, Chad su Octane che vinciamo 6 a 3 Comunque mi sembra che il dominio abbia vinto di circa 20-25 punti Intendo in totale comunque E arrivati a Chad, Chad su Octane non avevamo tattiche O almeno avevamo delle tattiche ma ognuno faceva delle cose diverse Quindi ci siamo dovuti trovare a cambiare delle cose Però è andata bene lo stesso Ci siamo adattati Quello che abbiamo fatto è stato se, che ne so, Frido e Pibo andavano sulla sinistra a proteggere A Io mi muovevo in modo che se serviva una mano a Leonardo, se serviva una mano a loro mi potevo spostare e muovere Quindi abbiamo fatto tutte cose del genere Alla fine è andato bene, abbiamo vinto 6 a 3 Passiamo poi al Blitz Nel Blitz ragazzi io devo dire che Pibo ha giocato da solo Abbiamo vinto per merito di Pibo Pibo non si sa in Blitz Non ha mai giocato, De Certo eccetera eccetera Pure lui come noi E non si sa per quale motivo in Blitz è così forte Veramente ha fatto paura Eppure è entrato nei top play of the week Cioè del weekend, scusate Se li andate a cercare della G Finitor usciranno vedrete lui Che fa delle streak da 15 kill, una cosa del genere Una cosa assurda E vinciamo quindi facilmente questa qualificazione Siamo felici sì di aver vinto perché andiamo a Los Angeles Ma allo stesso tempo siamo amareggiati Perché noi che siamo giocatori che abbiamo sempre creduto Nell'allenarci, nel giocare, nel cercare comunque di competere Quest'anno non l'abbiamo fatto Ci siamo solamente, abbiamo giocato così per vincere Per poter andare magari E per giocare Tanto così per fare C'erano molti team che si sono allenati invece per questo evento E scoprire che quando si arriva in LAN Questi team non riescono a tenere testa a noi È un po' amareggiante Perché capisci quanto la situazione in Italia è disperata Io spero che in questi ultimi anni qualcosa succeda Qualcosa si muove in Italia e si crei un esports Ma non solo per COD Io parlo anche di altri giochi Per esempio League of Legends Starcraft Eccetera eccetera Perché ci sono ma solo di nicchia E non ci sta un'elevata competizione Almeno non è che non c'è un'elevata competizione Non ci sono i giocatori adatti per competere a livello europeo O non c'è la giusta dedizione Ma già ne ho parlato di questo Non vi voglio assillare Comunque vinciamo tutti felici E via A parte comunque il giro per Londra Tutti insieme Tutti assieme Quindi arriviamo a Londra Andiamo tutti a farci un giro per festeggiare Andiamo a comprare regali Cosa del genere Arrivati verso sera Ci dividiamo Leonardo e Filippo Caccia Cioè Frido Tornano in albergo Mentre io e Filippo Continuiamo a rimanere a Londra Andiamo ad altro a fare visita a dei suoi amici Eccetera eccetera Rimaniamo bloccati a Londra Perché non funzionano due linee E non sappiamo come tornare Perché per arrivare al Twickenham Stadium Non bisogna prendere la metro Ma bisogna prendere la ferrovia nazionale Quindi un problema Doviamo arrivare verso la periferia Verso la zona 4 barra 5 Un casino Siamo arrivati tipo alle 11 così Siamo andati di nuovo a festeggiare A fare casino la sera Alla fine andiamo a letto tipo alle 3 così Le 3 dell'orario inglese Quindi le 4 qui E la mattina Alle 9-10 Ci chiama Gnet Della Gfinite E ci fa Ehi dovete presentarvi Qui entro 10 minuti O verrete squalificati Noi cosa? Non sapevamo che dovevamo giocare Come prima partita del giorno Alle 9 Cioè eravamo scioccati Ci svegliamo di corso Andiamo e ci sediamo Per giocare contro i Reign La prima partita Giocata benissimo da tutti Il primo dominio Tra l'altro Leonardo Fa una prestazione assurda Veramente Quindi anche merito suo Per questa vittoria E andiamo comunque alla seconda mappa Octane Che all'inizio sembra andare bene Ci giochiamo subito le nostre carte Che però abbiamo già giocato contro gli AK E poi non sappiamo più che fare E lì si vede che la nostra preparazione In Cedo Forse la nostra stanchezza Si faceva sentire E giochiamo veramente male Arriviamo poi al Blitz Come al solito Pibo Gioca da solo Fa tutto lui E ci fa vincere Prossimo dominio Octane Il primo side Sembrava che stavamo capendo qualcosa Ma dopo 2 minuti e 50 di partita Va tutto a puttane Stessa cosa Il secondo side Quindi perdiamo dominio Andiamo su 2 al 2 Inizia Chad Inizia Chad Veramente ci concentriamo Come degli animali Andiamo sulla lead Del 5 al 2 Poi a un certo punto Come blackout totale Non sappiamo più cosa inventarci Quando invece avremmo dovuto Solamente provare a usare Le stesse tattiche Che avevamo utilizzato Per vincere quei 5 round Cosa che non abbiamo fatto Ci recuperano Vanno sul 5 a 5 Quando Leonardo ha un'intuizione Stiamo in difesa Lui fa Io gli lascio al centro Qualcuno mi copra Io vado là Mi metto dietro dei 2 Lo copro Lui ne ammazza 1 Io ne ammazzo un altro Siamo in una situazione di 4 contro 2 Stiamo per vincere Alla fine Leonardo muore No mi sembra Filippo Pippo muore Pippo muore E rimaniamo 3 contro 2 Vediamo dove è un altro Viene ammazzato Quello con la bomba Planta la bomba Io corro So che stava plantando la bomba Quindi non poteva fare niente Era praticamente finita Lo ammazzo Vi siniesco la bomba E vinciamo E arriviamo a quella che è la top 8 Europea Quindi a cui siamo anche un buon seeding Per andare comunque a Los Angeles Perché Contate che a Los Angeles Essendo top 8 Non dovremo sfidare team Che hanno il primo seed Per esempio come complexity O cose del genere Che penso abbiano quel seed comunque E Oltre a questo Dobbiamo giocare contro gli Epsons Il mio volo era i 4.50 Per questioni personali Ma comunque se siete stati attenti Avete visto spazio game Sapete comunque il perché Non mi voglio dilungare A mettermi a parare queste cose Alle 4.50 Io avevo il volo Quindi abbiamo dovuto forfettare La partita contro gli Epsilon Ma allo stesso tempo Eravamo felici Forse contro gli Epsilon Avremmo perso sicuramente Perché eravamo troppo stanchi Non ci siamo allenati Su questo gioco Non ci abbiamo messo A giusta dedizione Che ci abbiamo messo Su Black Ops 2 E avevamo solo Tanta esperienza Che deriva da tutte Le nostre LAN Che abbiamo fatto E anche comunque Dal nostro teamwork Perché ho notato Che ci siamo trovati Veramente bene A giocare assieme Una cosa che Non trovo da tempo Forse per tutti i problemi Che ci sono stati Nei team in cui sono stato Comunque Questo è un piccolo recap Della LAN Sono felicissimo Ho visto il vostro supporto In una maniera esagerata Su Twitter Su Facebook Una cosa bellissima Tutti sono felici Quindi vi ringrazio Non solo a nome mio Ma anche di Leonardo E dei due Filippo Perché anche loro Sono veramente contenti Di questa cosa Quindi ragazzi Spero ci seguirete In molti A quelle che sono Le finali a Los Angeles Speriamo magari Di fare un bel impatto E magari di allenarci In questo mese Se riusciamo a rimediare Delle One Però non so Se gli altri Le compreranno Le One Perché comunque Sono 500 euro E contate che forse Questo gioco Dopo il Cold War Championship Non si sa Se continuerà A essere un bel gioco Ma avete visto Ci sono molte Meno LAN Rispetto all'anno scorso Quindi forse Questo sarà un motivo Per cui molti Non prenderanno la One E se non la prenderanno Ci dovremmo allenare Su 360 Quindi ci saranno varie cose Ci saranno vari problemi Alla fine Quindi spero vi sia piaciuto Questo piccolo vlog Non lo facevo da tempo Vi saluto Bitches Al prossimo video Let's go Alla fine Grazie.